E' sempre più caos nel governo sulla realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione. Lega e ministro dell'economia Tria favorevoli all'opera. Dal Movimento 5 Stelle arriva ancora un no con Toninelli che mette il veto. Smentito dal Premier Conte, la versione ridotta della TAV, pressing dalla Francia, bisogna decidere velocemente. Dall'Istat tre dati macroeconomici che evidenziano la frenata dell'economia italiana riviste a ribasso le stime di crescita nel 2018 dello 0,9% invece che l'1% atteso dal governo. Mai così alto il debito pubblico al 132,1% del prodotto interno lordo. In chiaro scuro anche i dati dell'occupazione con l'aumento dei contratti stabili anche se cresce la disoccupazione giovanile che arriva al 33%. Chiusa la campagna per le primarie domani, il Partito Democratico elegge il nuovo segretario. Zingaretti resta il favorito con oltre il 47% dei voti dei circoli del partito. Tensione con l'altro candidato Giacchetti sui rapporti con i 5 Stelle. Se il vincitore alle urne non supererà la soglia del 50% dei voti, si torna all'Assemblea nazionale. Brutta prestazione dell'Inter in casa del Cagliari nell'anticipo della 26esima giornata di campionato. Ancora privi di Icardi, i nero-azzurri sono stati sconfitti per 2-1. E ora il terzo posto è a rischio. Il Milan contro il Sassuolo può già superarla questo pomeriggio. In programma in serata anche il derby di Roma. E allora, sono le 7.31, buongiorno, buon sabato, benvenuti al telegiornale che apriamo parlando ancora di TAV. Perché la questione non si sblocca per il momento, anche se secondo alcune indiscrizioni giornalistiche il Movimento 5 Stelle sarebbe, diciamo così, destinato a una posizione un po' più morbida. Un sondaggio, rivelato questa mattina dal Corriere della Sera, indicherebbe come almeno 70% degli elettori del Movimento 5 Stelle sarebbero infatti favorevoli alla realizzazione dell'opera. L'unica cosa certa è che i bandi che sbloccano le gare d'appalto saranno pubblicati entro marzo per non perdere i finanziamenti europei, 300 milioni in ballo, e non aprire una crisi senza precedenti sulle grandi opere, sia con la Francia che con l'Unione Europea. Per il resto, sul TAV regna l'incertezza, con il ministro delle infrastrutture Toninelli, che ribadisce il suo no senza pregiudizi, sottolineando che questi bandi possono essere annullati entro sei mesi senza incorrere in penali, visto che verrebbe svolta solo una ricognizione tra le aziende interessate all'opera. Un viceministro, Di Maio, sempre 5 Stelle, che non ne vuole parlare, l'altro viceministro, il leghista Salvini, che invece insiste a parlarne, introducendo ora l'ipotesi di una non meglio precisata Minitav. E infine un presidente del Consiglio, Conte, che smentisce da parte mia, dice che nessuna ipotesi di Minitav ne richieste di nuove analisi costi-benefici dell'opera. E al ministro dell'Economia, Lemaire, che dice che la Francia è favorevole, il suo omologo italiano, Tria, risponde con ottimismo «Credo che il governo stia andando verso quella direzione». Alla fine si capisce che l'intenzione di pubblicare i bandi a dieci giorni dallo scadere del termine è l'unico modo per rinviare la spinosa questione intergovernativa, magari lasciandola scivolare oltre le europee di maggio, lasciando Cinque Stelle e Lega liberi di guardare il bicchiere nel modo che vogliono, mezzo pieno per la Lega, visto che non si può certo parlare di stop alla grande opera, mezzo vuoto per i Cinque Stelle che possono dirsi soddisfatti di aver stoppato e rimandato. Un IPD che scopre di non poter più aspettare, dopo che in passato lo stesso senatore Esposito aveva espresso perplessità sull'opera e presenta una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Toninelli. I Cinque Stelle che reagiscono, chiamando in causa i rapporti trascorsi tra i governi PD e Autostrade e Forza Italia che prende di mira la creatura appena entrata in scena alla Minitav. Il progetto Minitav è in realtà un trenino giocattolo, attacca la Carfagna, inizino a fare gli adulti e la smettano di giocare con le costruzioni. Stanno amministrando l'Italia. Di TAV ha parlato ieri sera anche Beppe Grillo che si trovava a Torino per uno spettacolo dicendo che secondo lui la TAV è morta perché i grandi progetti sono altri e però durante il suo spettacolo e anche prima Beppe Grillo è stato contestato non tanto e non solo dai pro o contro TAV quanto da un gruppo di NOVAX che inneggiando e innalzando una serie di striscioni, uno dei quali per esempio c'era scritto Grillo non ricorda e firma il patto della scienza, vergogna, appunto gli rinfacciavano le posizioni in qualche modo più possibiliste nei confronti dei vaccini del Movimento 5 Stelle. Prima nei suoi spettacoli venivano messi in discussione per sicurezza ed efficacia hanno detto appunto i contestatori a proposito dei vaccini e dice quando invece poi il Movimento ha firmato questo patto trasversale per la scienza hanno cambiato idea questo per i vaccini, vedremo poi cosa succederà, quando succederà, se succederà per il TAV. Intanto, ahimè, le cifre dell'economia, quella reale, non sono buone per niente come già avevano annunciato le previsioni, le prime proiezioni, il debito pubblico alle stelle è crescita ferma. Ribasso è ormai una parola estremamente in voga quando si parla dell'economia italiana e ribasso è anche la parola chiave delle stime sul prodotto interno lordo e sull'indebitamento delle amministrazioni pubbliche diffuse ieri dall'Istat perché al ribasso è stato rivisto il PIL 2018 dal più 1% preliminare coincidente con le previsioni del governo al più 0,9%, 7 decimali persi rispetto all'anno precedente ma soprattutto un inevitabile effetto di trascinamento, questa volta al rialzo sui parametri europei che la Commissione tiene sotto stretto controllo il rapporto tra deficit e PIL al 2,1% e quello tra debito e PIL che schizza al 132,1%. È vero, l'indebitamento scende rispetto al 2018 ma meno di quanto stimato dall'esecutivo che aveva fissato la sticella all'1,9% il debito invece, comunque la siguardia è in salita sia rispetto al 131,3% del 2017 che al 131,7% governativo e visto che il denominatore di quei rapporti il PIL al momento grossi segnali di vita non ne dà le prospettive per il 2019 non sono propriamente rosee e la revisione del quadro di finanza pubblica che il Governo dovrà fare ad aprile con la nota di aggiornamento al DEF si annuncia ormai sostanziosa con la possibilità molto concreta che dall'Europa arrivi presto una richiesta di manovra correttiva certo, il rallentamento generale vale per tutta l'Europa magra consolazione, anzi danno ulteriore perché questo ha sicuramente influito sulla performance nel nostro export e minaccia di farlo anche nei prossimi mesi in crescita molto più contenuta rispetto al 2017 così come la domanda interna anche alla luce di ciò possiamo comprendere un dato tecnico particolarmente allarmante forse il più allarmante quello relativo all'indice della nostra manifattura al quinto mese consecutivo di contrazione e ai minimi da quasi sei anni e arriva anche un intervento del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde che ha parlato proprio delle difficoltà dell'economia non solo quella italiana ma anche di quella europea tant'è che Lagarde infatti ha detto nell'area euro la crescita ha ormai purtroppo superato il picco abbiamo rivisto le stime del prodotto interno lordo per la Germania e per l'Italia sottolineando i rischi sovrani e finanziari che appunto frenano la crescita e secondo la Lagarde in Europa bisognerebbe andare verso una condivisione del rischio ipotesi che come sapete per i tedeschi è proprio fumo negli occhi mentre a livello globale occorrerebbe una maggiore collaborazione al di là dei confini nazionali intanto vedremo il ritornando invece alla politica nazionale c'è un appuntamento importante domani oggi diciamo giornata di riflessione vi dicevo appuntamento importante per la politica perché gli elettori del Partito Democratico eleggono il proprio segretario come sapete ci sono sostanzialmente tre contendenti Nicola Zingaretti è il favorito ma deve arrivare almeno al 50 più 1% dei voti a 24 ore dal voto per le primarie i candidati da EMS caldano i motori Nicola Zingaretti il favorito con quasi il 48% nel voto dei circoli torna a ribadire l'importanza del dialogo con i moderati per vincere contro la destra perché i 5 Stelle assicura stavolta deflagreranno e da quella crisi dice bisogna raccogliere parte degli elettori mentre su un eventuale ritorno di D'Alema e Bersani dentro il PD precisa Zingaretti sono stati loro stessi a dire di no anche se l'ispirazione di una lista unitaria dice il governatore del Lazio sta sulle spalle del PD non esclude quindi l'ipotesi dell'istone voluta dall'ex ministro Calenda un collega di partito che stimo dice Zingaretti ma è impulsivo e spesso usa la clava quando a volte ci vorrebbe il fioretto a ribadire l'importanza dell'istone invece lo sfidante Roberto Giacchetti candidato non ufficiale di Matteo Renzi abbiamo fatto errori ma basta col fuoco amico dice Giacchetti se vinco le primarie sarò candidato premier e poi ricorda il suo programma con al centro lavoro e tasse da abbassare Maurizio Martina invece rilancia il progetto pro Europa di Calenda e ricorda nel caso di Vittoria l'importanza di una direzione collegiale del partito Tony è accesi su alleanze e dopo congresso con Giacchetti che torna ad attaccare Zingaretti su eventuali alleanze con i 5 Stelle prospettiva smentita dal governatore ma la prova più importante da superare resta l'affluenza l'appello alla partecipazione da parte dei big democratici bisogna superare il milione di votanti sotto quella soglia sarà una sconfitta 7.000 i seggi in tutta Italia 150 all'estero si vota domani dalle 8 alle 20 vince chi supera la soglia del 50% dei voti altrimenti tutto sarà deciso all'assemblea nazionale del 17 marzo Allora abbiamo visto dell'appello di Veltroni che è stato appunto un segretario del partito democratico come sapete non si è espresso Matteo Renzi che però in questa competizione resta un po' come dire il convitato di Pietra forse perché Renzi deve pensare anche ai guai giudiziari dei genitori i quali genitori si ritrovano insomma a dover davvero sbrogliare una matassa molto complicata Il giudice del Tribunale di Firenze la definisce una misura indispensabile che non si può revocare Tiziano Renzi padre dell'ex premier e sua moglie Laura Bolin restano dunque agli arresti domiciliari dove sono dallo scorso 18 febbraio hanno detto falsità scrive il GIP nella motivazione e non hanno offerto alcuna spiegazione alternativa per i fatti per cui sono indagati le accuse contestate sono bancarotta fraudolente e false fatturazioni il sospetto dei magistrati è che i due coniugi avrebbero fatto fallire volutamente diverse cooperative svuotando nelle casse per poi favorire fiscalmente la società di famiglia la E26 la stessa società coinvolta nell'inchiesta della procura di Cuneo dove la Bovoli è stata rinviata a giudizio due giorni fa per bancarotta documentale aggravata perché amministratrice della E26 ai tempi dei fatti contestati una carica da cui la Bovoli si è dimessa lo scorso 20 febbraio dimissioni ritenute insufficiente dal giudice che ha confermato i domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli spiega il GIP in precedenza hanno svolto ruoli di fatto senza ricoprire cariche formali immediata la reazione via social dello stesso Tiziano Renzi andrò in tribunale a testa alta scrive perché io conosco la verità e non posso confessare ciò che non ho fatto poi aggiunge mai fatto fatture false siamo massacrate ogni giorno mediaticamente ma ci difenderemo parla anche il figlio Matteo Renzi da figlio soffro molto e forse tutto questo sostiene colpa del mio impegno in politica il legale della famiglia ha già depositato ricorso al tribunale del riesame per chiedere la revoca dei domiciliari l'udienza è fissata per mercoledì prossimo allora andiamo intanto invece a vedere che cosa succede all'estero parliamo di Donald Trump il quale Donald Trump è tornato insomma non proprio sugli altari dall'incontro in Vietnam con Kim Jong-un non è stato insomma non è andato bene così come avrebbe voluto sicuramente quel negoziato e allora che cosa fa rilancia nei confronti della Cina dove come sapete è aperto un enorme contenzioso a proposito dei dazzi e allora il termine dei negoziatici in Stati Uniti è slittato ancora lo ha deciso appunto Donald Trump che via Twitter ha informato che la trattativa procede bene e che visto che appunto Donald Trump ha deciso di non aumentare dal primo di marzo la seconda tronche di tariffe sui prodotti cinesi così come aveva annunciato e in compenso invece chiederà a Pechino di rimuovere subito tutti i dazzi applicati nel settore agricolo inclusa la carne bovina e suina secondo alcune fonti del Washington Post Trump dunque punterebbe ad arrivare a un'intesa entro metà mese con un vertice un faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping mettendo appunto così fine a una guerra commerciale che come sappiamo dura da più di un anno e invece sono tante le manifestazioni che si sono svolte in questi ultimissimi giorni in Algeria dove si contesta vedete le immagini la candidatura dell'attuale presidente Bouteflika che sarebbe addirittura al quinto mandato Bouteflika che gode anche di pessima salute ultimamente il bilancio è abbastanza pesante una decina di feriti quasi una cinquantina di arresti solo ad Algeri ma c'erano persone anche nelle altre città da Orano sempre in Algeria la gente vuole la caduta del regime inneggia alla primavera araba chiede fondamentalmente un po' più di libertà per il momento però la risposta della polizia è l'utilizzo dei lacrimogeni e poi e poi invece noi siamo alle prese con tutti i sommovimenti all'interno dell'Europa in vista delle elezioni europee del posizionamento dei cosiddetti sovranisti che si trovano a destra che facevano parte del PPE e adesso sono in una posizione decisamente delicata a partire dal premio ungherese Orbán Viktor Orban ha voltato le spalle ai valori del partito popolare europeo in Ungheria lo stato di diritto è a rischio è ora di considerare se Viktor Orban appartiene o meno alla nostra famiglia una domanda che assomiglia tanto ad un'affermazione quella posta dall'eurodeputata svedese Anna Maria Corazza Bild sovranista uomo di destra che professa la democrazia illiberale in buoni rapporti anti-europeisti con Matteo Salvini Viktor Orban sta finendo il suo quarto mandato alla guida dell'Ungheria ma rischia l'uscita dal partito popolare esclusione chiesta formalmente per ora da quattro partiti di distrazione cattolica di Lussemburgo Belgio e Portogallo con Svezia e Finlandia però sempre più vicini al gruppo anti-Orban insomma lo scontro sembra ormai inarrestabile da un lato in linea con la sua politica anti-europeista Budapest ha lanciato una campagna propagandistica arricchita di una lettera del premier indirizzata a tutti i cittadini ungheresi intitolata anche tu hai il diritto di sapere cosa sta progettando Bruxelles anzitutto sul fronte migranti con l'Unione secondo Orban pronta a guidare un'invasione di migranti nel continente parole eccessive secondo Bruxelles e Strasburgo dall'altro versante c'è poi la situazione nel paese anche lei sotto osservazione preoccupata da parte dell'Unione sin dall'avvento di Orban a Budapest migranti come visto e poi magistratura stampa e scuola sono gli incubi del leader Maggiaro dopo la criticatissima legge ribattezzata della schiavitù l'ultima stretta voluta da Orban è quella sui libri di testo per le scuole si useranno solo quelli voluti dallo Stato perché i precedenti diffondevano teorie non gradite mentre Orban vuole educare gli ungheresi ad un'ideologia ultranazionalista farcita di razzismo e anti-europeismo da tempo anche il comparto universitario ungherese denuncia limitazioni alla libertà di insegnamento insomma un modello quello ungherese che non ha mai smesso di spaventare ma che a pochi mesi dal voto europeo sta costringendo i popolari e non solo loro a correre ai ripari il momento dello sport e del campionato di calcio oggi molti gli spunti interessanti un film diverso dell'Inter Production girato a Cagliari nel termine di una settimana molto complicata e adesso c'è da vedere l'effetto che fa perché il fatto nuovo è che perdendo in Sardegna la squadra di Spalletti interrompe la serie positiva e la terra comincia a tremare per il treguardo Champions se la serenità nell'ambiente era già minata adesso è forte il rischio di nuovi tormenti è stata una prova molto dura fin dall'inizio contro i Sardi scatenati in un pressing feroce orchestrato da un super barella proposto da Marantz una tre quarti tutti i contrasti vinti dai rosso blu che fanno valere la loro fisicità in area la conferma arriva dal primo gol di Cepitelli di forza su Perisic in mezzo al campo l'interrena fanno traballa vistosamente ma evita di sprofondare anche se davanti gli esterni non riescono a proporre soluzioni interessanti appena arriva un pallone ecco che Lautaro Martinez firma il pareggio se vogliamo proprio all'Aicardi anche se le caratteristiche dei due sono molto diverse il ragazzo argentino è chiamato a recitare da solo la personalità non gli manca però non è il centravanti che tiene bloccati i difensori avversari il Cagliari invece ha il suo bomber d'aria che attraversa un ottimo momento Pavoletti cancella Scrinia e De Vrai facendogli mangiare la polvere e lanciando in orbita una squadra praticamente perfetta nell'interpretazione della gara l'Inter reagisce migliorando la ripresa e i risultati si vedono dalle parti di Cragno che conferma tutta la sua bravura Lautaro lo impegna severamente liberandosi in un modo degno del suo soprannome Toro il problema di fondo è che Spalletti per tentare la rimonta è costretto ad inserire la nocchia perché non può contare nemmeno su Keita infortunato l'errore di Barella al dischetto evita un passivo più pesante diventa ancora più scontante il caso Icardi da qui in avanti l'Inter ha anche l'impegno dell'Europa League e si deve trovare una soluzione per evitare l'autolesionismo e oggi come due mastini il Milan e la Roma puntano la preda i lossonieri vincendo a San Siro contro il Sassuolo hanno l'occasione per un sorpasso clamoroso impensabile prima di Natale la squadra di Francesco è subito dietro e si cimentano ai derbi il primo per il baby Zaniolo puntando sull'esperienza di De Rossi per la Lazio potrebbe essere l'ultima chiamata in ottica Champions Inzaghi deve gestire molti calciatori recuperati ma non al meglio panchina per Luisa Alberto Allora prima di chiudere al volo un'ultimissima notizia un tweet che arriva dall'ambasciatore in Pakistan che fa sapere che causa maltempo anche oggi e siamo al sesto giorno non potranno esserci le operazioni di ricerca dei due alpinisti uno dei quali italiano sapete disperso sul Nanga Parbat vedremo nei prossimi giorni augurandosi che ci siano buone notizie 7.50 in questo momento io mi fermo do la linea Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo e poi Edgardo Gulotta alla conduzione di Omnibus ci vediamo se volete domani mattina sempre a partire dalle 7 buona giornata grazie a tutti